Allora, Giuseppe Scoditi, innanzitutto dove sei e cosa stiamo facendo? Allora, sono in teatro a Milano al Teatro Fontana, fermata a metro Gialla Zara. Alle mie spalle c'è Alessandro, il nostro tecnico, e Gerez, che è regista e coautore di questo spettacolo. Quindi Gerez si può dire che è proprio un vero uomo di teatro, anche Alessandro, ma Gerez, insomma, oltre ad essere un artista intellettuale, è anche lì che mette le mani in mezzo ai cavi, proprio come Edoardo De Filippo, Arnoldo Foa, Giuseppe Scuditi e Giuseppe Scuditi. Che però in questo momento cosa state preparando? Stiamo realizzando l'allestimento per un dopodomani, giovedì, debuttiamo con Paolo Sorrentino, vieni, devo dirti una cosa, ore 20 e 30, qui al Teatro Fontana. Quindi ora dovremmo riuscire a finire oggi il montaggio, fare una prova, e poi si aspetta Paolo, aspettiamo Paolo. Ma la vera domanda è cos'è Paolo Sorrentino, vieni, Paolo Sorrentino, devo dirti una cosa. È un conto in sospeso che dobbiamo chiarire io e Paolo Sorrentino, ormai è una storia vecchia, un provino che non è andato a buon fine, gli devo dire delle cose, gli devo dire soprattutto una cosa molto importante, lo voglio fare facendolo nel mio habitat, che è comunque il teatro, e lui è assolutamente a conoscenza di tutto quanto, spero che anche sta guardando questa intervista, la starà sicuramente guardando. Quindi Paolo vieni, insomma, avrai due posti riservati a nome tuo ogni sera, gratis, riceverai un trattamento speciale che non ti dimenticherai mai. Bibite? Bibite ce le abbiamo, alcolici, alcolici, so che a te ti piace il Martini, Paolo, e quindi dai, devi venire, è uno spettacolo dedicato a te. Senti Giuseppe, dove nasce? Qual è stato il primo spunto? Il primo spunto è stato sicuramente un momento di grande tristezza e disperazione, che è stato il Covid, dove mi sono trovato a casa, non poter fare niente, non poter immaginare, non poter sognare, e infatti in realtà mi restavano soltanto quelli, i sogni, e io appunto durante il Covid sognavo di fare un film con, cioè sognavo di incontrare Sorrentino, perché comunque Sorrentino, per gli attori, è un po' il regista con cui tutti vogliono lavorare, perché è il regista più glamour, più parlato, più chiacchierato, anche in questo momento storico molto famoso a livello mondiale, il suo ultimo film è stato candidato all'Oscar, del resto. E quindi per un attore come me fare un film con Sorrentino, peraltro ci tengo anche a dire questa cosa, che io questa idea l'ho avuta prima di fare il film con Nanni, quindi è stata una strana coincidenza di cose, e quindi... E Nanni non era geloso, non è stato geloso sapendo che tu stavi scrivendo una cosa su Sorrentino, o non lo sapevo. No, no, allora io non avrei mai potuto introdurre questo spettacolo, Nanni Moretti vieni devo dirti una cosa, perché in questo spettacolo comunque c'è anche dell'odio, cioè questo spettacolo, cioè è uno spettacolo per chi ama Sorrentino e anche per chi lo odia, cioè è uno spettacolo che accontenta tutti, invece io Nanni lo amo e basta, quindi al massimo, cioè dovrei intitolare uno spettacolo Nanni Moretti ti amo, ma lui lo sa perfettamente, peraltro lo saluto tantissimo. E quindi è nato così, abbiamo debutato l'anno scorso a Bari con due sold out, e sembrava che dovesse venire e poi non è venuto, e tutti ogni sera credono che lui ci sia, cioè si crea una magia in sala, per cui siamo tutti convinti che lui è qua. Cioè quindi tra Beck e Tescoditti diciamo. Esatto, tra Beck e Tescoditti, è uno spettacolo sul grande assente, che è costantemente nominato, perché il monologo non è un monologo, è un dialogo tra me e lui, dove a parlare sono solo io, ed è tutto in seconda persona, cioè io mi riferisco a lui in continuazione, aspettandomi anche che lui possa rispondere, e dicendogli tutto quello che ho voluto dirgli in tutti questi anni, ma non ho mai potuto dirgli, e lo faccio a teatro con questo spettacolo. Senti Giuseppe, questo è anche un momento per fare il bilancio di un anno fortunato, ti abbiamo visto a Cannes con il sold all'avvenire, ma soprattutto con un grande ruolo. È bellissimo, un ruolo incredibile, sono stato felicissimo, cioè è irripetibile, cioè quello che è successo è irripetibile, non potrà mai succedere niente di più bello, perché, cioè, veramente, cosa posso desiderare? È stato, cioè per me in realtà la cosa più bella, se devo dire la verità, è stato ovviamente Cannes, ma è stato quando abbiamo girato. Cioè quella settimana che abbiamo girato con Nanni, di notte, che abbiamo girato di notti, veniva il rai, l'autista a prendermi tipo alle 18, e io tornavo a casa alle 6 di mattina, è stato bellissimo, perché comunque ho avuto assoluta libertà, cioè mi sono sentito molto libero sul set, mi sono divertito tantissimo, mi sono sentito me stesso, e poi io, diciamo, mentre facevo quel film, io sentivo che era un film capolavoro, e sentivo che, particolarmente quella scena, era una grande lezione di cinema, che resterà per sempre nella storia, ed è incredibile che io ne facevo parte, quindi, cioè, veramente, irripetibile, cioè, irripetibile, cioè, cosa ci può essere di più bello? Che faccio un film con Woody Allen, oppure... Con Sorrentino. Sì, sì, anche, 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 però è diverso, perché comunque Nanni Moretti, Nanni Moretti, veramente, è proprio una persona di casa, io lo percepisco come una persona di casa, abbiamo visto tutti i suoi film, cioè, lo sento come un parente. Ma come ci sei entrato nel Soldo all'Avenire? Eh, perché praticamente, grazie alla mia gente, Donatella Franciosi, avevo saputo che Nanni Moretti faceva dei provini per il suo nuovo film, e quindi... Ciao, ciao ragazzi! Ciao! E quindi sapevo che lui cercava, insomma, attori, ho chiesto alla mia gente di farmi fare un incontro con lui, la mia gente subito organizzata, è stata bravissima, mi ha messo subito in contatto con la casting director, Manuela De Santis, che saluto tantissimo, e ho fatto diversi provini con Nanni, e non riuscivamo bene a capire che ruolo potessi fare, infatti, passavo da una cosa a un'altra, dagli attori del film comunista, degli sceneggiatori, e a un certo punto poi lui mi ha chiamato e mi ha detto che avrei interpretato questo ruolo, diciamo, pensato apposta per me, e quindi, cioè, ti rendi conto che bellezza, ma manca a pagarla una cosa del genere, cioè un culo allucinante, ma del resto nella nostra carriera ci vuole un sacco di culo, e quindi sono stato molto fortunato. Senti Giuseppe, per chiudere, qual è il tuo film di Sorrentino, del cuore, quello che ami di più? Beh, sicuramente, allora, il film, diciamo, mio preferito è L'Uomo in Più, sicuramente, però diciamo, il film che mi ha fatto scoprire Sorrentino è stato Il Divo, cioè Il Divo, comunque, io mi ricordo benissimo il giorno in cui sono andato al cinema a Bari, a vedere Il Divo con un'amica del liceo, e, cioè, mi sembrò di assistere a un grande film di cinema italiano, me lo ricordo veramente bene, benissimo. Poi ho visto altri film e comunque L'Uomo in Più è quello più, più bello, più emozionante, è quello che mi commuove di più, mi ricordo una serie di volte ho portato anche i provini, il monologo che fa Tony Servillo in televisione, l'intervista, io ho sempre voluto cantare, e mio padre mi picchiava, e io cantavo, ma lo faccio malissimo, scusami Tony Servillo, ho fatto male, per cui, insomma, sì, quello, però è anche stata la mano di Dio, comunque un film stupendo, ma sono tutti belli, sono tutti belli. Senti, per chiudere, Giuseppe, ma se viene Paolo Sorrentino una sera, è finito tutto però, finisce lo spettacolo, sì, finisce lo spettacolo, cioè, anche un'ipotesi di turno, cioè, nel senso, se viene tipo giovedì, venerdì e sabato non si fa spettacolo, potrebbe essere un problema questo. Potrebbe essere un problema per il teatro, ma cazzi loro, voglio dire, sono loro anche che hanno scegliato, io gli avevo, lo avevo detto a Rossella Lepore, Gianluca Balestra, direttori del teatro, ragazzi, attenzione, però hanno voluto imbarcarsi in questa cosa, però hai capito molto bene lo spirito, cioè, sono felice. Hai capito proprio bene di cosa stiamo parlando. Giuseppe Scoditti, grazie mille, Giuseppe. Hotcore, grazie, ragazzi. Grazie mille.